Tre istituti di vigilanza privati dalle prossime settimane saranno chiamati a collaborare in maniera più diretta per la sicurezza a Palermo. Specie durante i servizi serali e notturni, le guardie giurate dovranno segnalare episodi che richiedano l'intervento delle forze dell'ordine, a cominciare dai frequenti episodi di furti e vandalismo nelle scuole. Il protocollo di quest'accordo, elaborato dal Ministro dell'Interno nel 2010 e nel frattempo già applicato a Milano, è stato firmato questa mattina a Palermo in Prefettura. Il coordinamento dell'iniziativa sarà affidato alla Questura. Il protocollo potrà coinvolgere altri istituti di vigilanza in altri comuni della provincia. Fondamentale però rimane il contributo del cittadino. Anche i cittadini devono essere collaborativi perché una informazione giunta in tempo reale può aiutare alla repressione del reato e quindi è fondamentale che ci sia questa collaborazione. Io mi appello a cittadini perché ci diano anche loro una mano. Il Comune di Palermo intanto punta a rafforzare il controllo su quanto accade in città con un progetto basato sulla videoosservazione affidato ai vigili urbani con una precisa scelta. Affidarci sempre di più ai controlli a mezzo di tecnologie e di sistemi avanzati di monitoraggio. Da venerdì avvieremo la sperimentazione della control room e questa sarà operativa a partire dalle primissime settimane del prossimo anno.